Oh, che bella notizia! Tra poco diventerò la mamma! Oh, ma si vede già la pancia! Vorrei nasconderla! Oh, ma come faccio la sorpresa, Ken? Devo cambiarmi! Questo? No, no, pure no, tutto è troppo stretto! No! Che faccio? La mia maletta preferita! No, tutto è troppo stretto! Oh, mi fanno male i piedi! Aia! Cambierò le scarpe! No! Ho solo le scarpe col tacco alto! Mi sa chi deve andare al negozio, ma sono così stanca! Non ce la faccio da sola! Ciao Barbie! Come va? Come ti senti, cara? Hai già detto a Ken? No! Volevo fare la sorpresa! No, ma non piangere! Vieni qua! E allora? Facciamo la sorpresa! No! Ho tutti i vestiti stretti! E le scarpe col tacco alto! Ma non ti preoccupare, andiamo al negozio! Ti porto con me! Vieni! Oh, Maria! Guarda quante cose carine! Ma secondo te mi servirà questo? Comprerei tutto qui! Più tardi, Barbie! Più tardi! Barbie, guarda! Le scarpe comode! Sì! Oh, che bello! Tieni, Barbie! Grazie, Maria! Mi fanno malissimo i piedi! Ciao, Barbie! Uh, che bella notizia! Congratulazioni! Csss! Non lo deve sapere ancora nessuno! Csss! Barbie vuole fare la sorpresa a Ken! Per questo le serve un vestito un pochino più largo! Sì, sì! Ho un vestito così! Prova questo, Barbie! Oh, a Ken piacerà! Barbie, vieni qui! Qui ci sono i camerini! Ok, arrivo! Maria, guarda come sto! Oh, ma sei bellissima! E quasi non si vede! Posso guardarmi nello specchio? Sì, certo! Uh, veramente un bel vestito! Mi piace un sacco! E la pancia quasi non si vede! Sì, ma mi sa che bisogna comprare altri vestiti perché la pancia tra poco crescerà! Guarda, qui ci sono i pantaloni per le donne in gravidanza! Poi, una felpa! Bella! Guarda, è come un costume per casa! Com'è? Sì, sì! Che bello! Poi qui c'è un vestito invernale! E poi guarda quanto sono carini questi vestiti piccolini! No, Maria, aspetta! Non sappiamo ancora chi nascerà! Ok! Allora, per noi tutto questo è questo! Allora, cento monete! Ok! Mettiamo tutto qui! E siamo pronte per andare a casa! Tieni! Grazie! A presto! Ciao ciao! Sorpresa! Oh, Ken! Mi hai spaventata! Volevo fare una festa per te! Quanto sei bravo! Anch'io ho una sorpresa per te! Davvero? Che bello! Hai trovato un altro lavoro! No, Ken! Aspettiamo un bambino! Oh, Barbie! Che bello! Sono felicissimo! Ehi, ciao! Bella! Oh, bello! Barbie, i tuoi vestiti li lascio qui! E con voi ci vediamo molto presto! Ciao ciao!